la classifica definitiva dei film di christopher nolan dal peggiore al migliore ciao sono valerio novara oggi vi faccio una classifica del tutto personale che riguarda uno dei migliori registi della spaglia del cinema che è christopher nolan sta per uscire openheimer il prossimo film molto atteso che riguarderà la costruzione lo sviluppo della bomba atomica e insomma nella seconda guerra mondiale pose fine alla diatriba tra gli stati uniti e il e concluse ahimè in un modo del tutto terribile la seconda guerra mondiale ma in attesa che esca openheimer ripercorriamo un po la carriera di nolan facendo la classifica dei suoi film ed è una classifica molto difficile anche perché trovare il peggiore dei film di nolan è stato veramente difficile quindi ho cercato di fare una classifica che metta insieme i film che mi sono piaciuti di più e che mi hanno fatto emozionare che mi hanno lasciato molto di più a livello emotivo rispetto all'impatto visivo facendo anche insomma il punto della situazione tra quelli che hanno funzionato di più e quelli che hanno funzionato meno almeno per me nolan tra l'altro è un regista che ha profondamente cambiato il modo di fare cinema con questa sua riflessione sul tempo e questo suo mettere lo spettatore come protagonista del film cioè lo spettatore è parte attiva dei suoi film deve cercare di capire deve immedesimarsi nolan ti fa immedesimare moltissimo con i protagonisti del film e deve capire anche dove il regista vuole andare a parare ma ci sono alcune differenze tra i suoi film che li hanno resi più funzionali alla storia e altri che li hanno resi più blockbuster se vogliamo allora all'ultimo posto dei film di nolan metto following il primo dei film di christopher nolan girato nel 98 il suo primo film in bianco e nero una pellicola che metto all'ultimo posto semplicemente perché come dice stephen king non è detto che il tuo primo libro possa essere il best seller dell'anno ma hai bisogno di esperienza e di farti le ossa però insomma è stato comunque un inizio sgargiante per christopher nolan perché è un film che parla di un uomo che insegue sconosciuti per strada è uno scrittore che sta cercando la sua ispirazione sta cercando un modo per svoltare la sua vita e a un certo punto si concentra sull'osservare un uomo misterioso che gli confiderà di chiamarsi cobb e che gli dirà di essere un ladro e di andare insieme a lui a rubare alcune case il protagonista decide di insomma di andare insieme a questo uomo ma si rende conto che l'obiettivo dell'uomo non è quello di rubare le case quanto far capire alle persone quanto la loro vita quanto non si stiano dedicando alla loro vita e fargli provare quella paura di perdere tutto se non danno una svolta alla loro vita è una trama che ho riscontrato anche in altri film se vogliamo non necessariamente di christopher nolan ma il messaggio è molto importante ed è il primo film che lui ha diretto ha scritto la sceneggiatura è stato anche il direttore della fotografia e che l'ha insomma fatto entrare nel panorama dei lungometraggi al penultimo posto di questa classifica vi do una brutta notizia metto tenet e sono sincero a me tenet è piaciuto fino a un certo punto come ho letto su un articolo del new york times è un film che visivamente ti sconvolge che ha fatto benissimo tecnicamente è un film della madonna ma che a livello emotivo mi ha lasciato poco tenet la storia di un agente segreto che viene fatto viaggiare nel tempo per scongiurare la terza guerra mondiale è un film che ha delle originalità molto importanti molte scene sono girate all'indietro i protagonisti si muovono e combattono andando a ritroso e la peculiarità di questo film ma anche di tutti i film di nolan è che il regista utilizza pochissima cgi pochissima computer grafica quasi per niente per girare i suoi film e per darci l'idea di trovarci al centro della scena al centro di questi combattimenti al centro di queste grandissime sparatori e esplosioni la scena dell'aereo e esplode internet è mitica e ce la ricordiamo tutta o tutti e la grande peculiarità di questo film è che tecnicamente da uno smacco a tutti i film che sono stati girati fino a questo momento anche perché ci sono il figlio di denzel washington che è il protagonista e robert pattinson che non mi è dispiaciuto in questo film di spionaggio se vogliamo però devo dire ho fatto questa classifica anche in base ad un altro criterio ovvero quante volte rivedrei questo film e vi posso dire che al primo posto c'è un film che ho visto almeno dieci volte mentre tenet l'ho visto una sola volta e non so se lo rivedrei passiamo al prossimo film insomnia un film che il regista non voleva dirigere e infatti è quello meno nulliano se vogliamo della filmografia di christopher nolan insomnia del 2000 con al pacino robin williams due grandissimi attori del panorama di hollywood e che è un thriller bel thriller nolan porta lo spettatore all'interno di questa insonnia del del detective interpretato da al pacino tra l'altro in questo film robin williams forse la prima volta se non l'unica che interpreta un cattivo interpreta l'antagonista della storia però devo dire insomma che insomnia non è uno dei migliori film di nolan non ha scritto lui la sceneggiatura e tra l'altro è un film che già era stato fatto è evidente che il regista controvoglia abbia dovuto dirigerlo però comunque è un film che si lascia guardare ed è un po più per tutti rispetto agli altri film di christopher nolan poi metto dei prestige salendo la nostra classifica decido di mettere dei prestige un film che vede jackman e christian bale tra l'altro christian bale molto utilizzato nei film da christopher nolan in un film che parla della diatriba fra due amici barra nemici che insomma esplorano attraverso anche la magia il loro rapporto e che ci fa capire fino a dove si è disposti ad arrivare per avere la meglio sull'altra persona nonostante l'amicizia e per raggiungere i nostri obiettivi il fine giustifica i mezzi ditemelo voi se avete visto dei prestige lo saprete benissimo cast sempre di alti livelli i film di nolan hanno un cast di alto livello e devo dire che questo film però anche qui non lo ripeterei un'altra volta anche se i film di nolan sono tutti belli io ci tengo a dirlo ci tengo sempre a dirlo perché sono film e sono fatti veramente benissimo e che finalmente c'è un regista che ci emoziona in un modo o nell'altro anche se uscite dalla sala che non avete capito un cazzo però ti ha lasciato qualcosa ecco i film di nolan ti lasciano sempre qualcosa passiamo al prossimo memento un film che ho amato tantissimo e con cui ho scoperto christopher nolan forse il film che l'ha consacrato nel panorama dei migliori registi di hollywood e che porta delle cose assurde e originali che non si erano mai viste prima protagonista infatti ha una memoria a breve termine che ogni 15 minuti si resetta quindi non si ricorda le cose successe da poco ma si ricorda le cose più vecchie e il film è tutto un susseguirsi di avanti e indietro per arrivare al finale con cui si capisce l'inizio della storia insomma film intrippante un film che alterna il bianco e nero al colore un film che ti trasporta per la prima volta nel concetto di tempo sul la riflessione sul tempo di christopher nolan che è una linea che contraddistingue tutti i suoi film l'evento è davvero fatto bene e consiglio di riguardarlo se non l'avete fatto un film che si lascia sempre guardare benissimo e al prossimo insomma il prossimo film al posto successivo non posso che mettere inception uno dei film più strani e più belli visivamente un'esperienza cinematografica visiva inception con un grande leonardo di caprio ecco forse inception questa riflessione sul sul tempo e sullo sui balzi nei sogni che i protagonisti possono fare forse non sono stati caratterizzati benissimo tutti i personaggi a parte il protagonista che leonardo di caprio però è un film che tecnicamente è un film bellissimo come tutti i film di christopher nolan tecnicamente sono bellissimi poi ci sono alcuni che ti lasciano molte più emozioni e altri meno però insomma più ci avviciniamo al podio come vi ho detto più ci sono film che oltre a essere tecnicamente realizzati benissimo mi hanno anche lasciato moltissima emozione e conseguenze in alcuni casi mi sono anche commosso quindi mi lascio immaginare quanto io sia legato a questo regista sopra inception qui arriviamo al podio metto dan kirk dan kirk film di guerra il primo film di guerra realizzato da christopher nolan la peculiarità è che si parla perché poi di film di guerra ma quanti ne hanno fatti quanti ne abbiamo visti quanti hanno riguardato la seconda guerra mondiale in questo caso nolan si concentra su un piccolo fatto della seconda guerra mondiale un piccolo ma grande fatto perché poi cambierà non poco le sorti della guerra tra dan kirk e i soldati rimasti i soldati alleati rimasti insomma incastrati in questa lingua di sabbia nel nord della francia che vengono salvati da persone con dei pescherecci con le barche e avevano deciso di dare il loro contributo eh alla causa degli alleati e erano andati a prenderli perché non potevano più eh attraversare la manica questi soldati ma la peculiarità di questo film è che ci sono tre punti di vista e anche qui il tempo è fondamentale un punto di vista si svolge nell'arco di una settimana un altro punto di vista si svolge nell'arco di un giorno e il terzo nell'arco di un'ora quindi è fantastico e questa cosa la si capisce ancora meglio se lo si riguarda il film io credo che i film di christopher nolan per essere capiti debbano essere riguardati e su questo credo che siamo tutti d'accordo dan kirk terzo posto al secondo posto non metto un solo film ma la trilogia del cavaliero oscuro perché non volevo fare insomma non volevo dividerli nonostante fra i tre film su batman ci sia il migliore e il peggiore quindi entriamo nel secondo posto per andare a fare insomma la classifica dei film di batman anche se vi rimando al video che ha fatto il nostro samuele su tutti i batman della storia e messi in classifica tutti i batman della storia il cavaliero oscuro straordinario batman begins il primo il cavaliero oscuro the dark knight il secondo il cavaliero oscuro il ritorno il terzo e li metto in classifica mettendo per primo the dark knight con it ledger che interpreta joker a cui sono legatissimo ho fatto anche un video spiegando le cause della morte di legger quando vinse l'oscar postumo per la sua interpretazione straordinaria un joker che secondo me ha superato anche il primo joker di jack nicholson nel film di tim barton e batman di rimasto metto the dark knight batman begins e il cavaliero oscuro il ritorno batman begins la peculiarità di questo batman è che la storia è molto lineare rispetto agli altri film di nolan e ci racconta le origini di batman come non l'avevamo mai viste in un modo del tutto nuovo christian bill e liam nison sono bravissimi nel primo film e credo che sia uno dei migliori batman interpretati e realizzati e che ne mostra anche il lato umano le debolezze eroe e anti eroe fino ad arrivare ai nemici con cui deve scontrarsi nei tre film il terzo il cavaliero oscuro il ritorno nonostante un tom ardi che entra in scena come bain ma è forse il cattivo mero cattivo dei dei tre film e annata quei che entrano insomma all'interno del cast di questo batman fanno però chiudere la storia nel miglior modo possibile emblematica bellissima l'ultima scena con alfred beve sorseggia un fernet branca in italia e vede christian bay la nata way insieme a un insomma un tavolo e concludono con un lieto fine la storia di questo batman rivisitato da nolan è fatto veramente bene sia a livello tecnico che interpretativo e che visivo una trilogia un po per tutti rispetto agli altri film e qui rullo di tamburi rullo di tamburi perché non possiamo non dare un po di patos all'arrivo del primo posto in classifica dei film di nolan film che come sapete ormai mi conoscete ho adorato e che ho rivisto al meno dieci volte come accennavo prima e che è interstellar film del 2014 con metti mcconi che straordinario jessica chastain a nata way un cast di ottimo livello che ci porta in una fantascienza che secondo me è poco fanta è molto scienza perché molto realistico nonostante quello che si potrebbe pensare pensate che il regista ha chiesto aiuto all'astrofisico non che premio nobel kip torn per realizzare il buco nero che vediamo nel film la storia parla in un futuro non precisato si parla del 2067 in una terra stretta nella morsa dell'inquinamento dei cambiamenti climatici una terra che sta diventando sempre più arida un gruppo di astronauti sono costretti a andare a cercare a viaggiare attraverso un buco nero un wormhole anzi per per cercare un altro pianeta abitabile una riflessione sul tempo ma non solo e sull'amore messi al centro di un film astrofisico di un film che parla molto di fisica in cui c'è molta scienza ne parlava anche il professore amedeo balbi in un video apposito su youtube se non lo conoscete andatevelo a cercare è un professore molto autorevole che insegna all'università di torbergata a roma e che ho intervistato tra l'altro di recente e che mi ha raccontato quanto interstellar sia uno dei film più fedeli alla realtà insieme a de martian per esempio è ancora più fedele a quello che potrebbe succedere su marte interstellar pone l'amore come unica unica fonte di passaggio tra le dimensioni e un film che va visto ma anche rivisto e che in molti si sono chiesti ma è uno strano finale perché lui è giovane la figlia è vecchia perché ci sono quei salti temporali perché lui viaggia in mezzo a questo tesseratto che è questa struttura fatta da una non meglio precisata civiltà avanzata che non è altro che la nostra noi esseri umani che in un futuro daremo la possibilità a coloro che sono nel passato di riuscire a salvare gli esseri umani e portarli via dal pianeta morente per me interstellar è uno spettacolo e un'emozione per gli occhi e per il cuore soprattutto qui torno sul fatto che la scena finale quando lui rivede la figlia anziana mi ha fatto commuovere mi ha fatto piangere non mi vergogno a dirlo e un film che rivedo sempre con con molta passione e che mi ha dato anche ispirazione per scrivere il mio libro il mio primo libro portami alla vita che la storia forse più dettagliata di quello che non spiega interstellar cioè come siamo arrivati ad avere la piaga e ad avere il pianeta arido con le piante che non crescono e con queste tempeste di sabbia interstellar se ben ricordate inizia con queste tempeste di sabbia ma non capiamo il perché si verificano e poi come fanno tutti gli esseri umani alla fine di interstellar ad andarsene dalla terra ecco per esempio con mio modesto insomma con le mie modeste capacità di scrittura spero di essere riuscito a spiegare nel mio libro che è un romanzo di fantascienza quello che invece non ha spiegato interstellar che per me è il film più bello di christopher nolan fatemi sapere cosa ne pensate se siete d'accordo con questa classifica ma voglio sapere soprattutto qual è la vostra top 8 top 10 se volete mettere i film di batman uno separato dall'altro di christopher nolan scrivetemeli nei commenti iscrivetevi al canale youtube c'è a che azione seguiteci su facebook e instagram dove tutti i giorni parliamo di cinema serie tv raccontiamo storie curiosità e aneddoti che riguardano il meraviglioso mondo del della cinematografia io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video